Dopo tre sonori schiaffoni, se il ministro avesse una qualche dignità rassegnerebbe le dimissioni. Questo è il grande ministro della Lega, sei davvero arrivato al capolinea, meriti di tornare in Veneto, devi andare a fare l'agricoltore in Veneto, non il ministro. Scusate, per cortesia dai, per cortesia, colleghi della Lega. No, signor Presidente, li lasci perché le figlie non escono dalla mostra. Onorevole Vangelisti, onorevole Vangelisti, per cortesia, cerchiamo tutti di dare una motivazione di ordine politico ma di evitare questi togno. Onorevole Vangelisti!